Da giorni una perdita d'acqua sta creando forti disagi ai residenti di via Maierato a Centro Giano. Con le temperature rigide di questi giorni l'acqua gela creando un pericolo soprattutto a pedoni e ciclisti. La perdita c'è dal 6 di gennaio e ha iniziato a fuoriuscire. In questi giorni con il ghiaccio, praticamente, ghiacciando la notte, si è creata tutta questa situazione di poltiglia ghiacciata che scende pure giù per la via. È pericoloso? Decisamente sì, perché soprattutto qui relativamente, è comunque ghiaccio perché va a piedi più che per le macchine e salendo anche per le macchine che salgono c'è a volte il rischio di slittamento. Sono state già fatte segnalazioni? Sì, sicuramente sì. Io ho chiamato ieri a loro, cioè alla Scea, per dire che questo ha fatto qui perché abbiamo già avvisato la settimana scorsa, domenica, guarda, da casa mia c'è così, 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 ma il tubo non è nostro della Scea. E non sono ancora arrivati. Io l'ho richiamato un'altra volta e ho detto la stessa cosa. E ho detto, guarda, io non lo so che cosa possiamo fare qua, ma non si può stare così perché la gente passa, non si ghiaccia. Io non lo so più. Poi, infatti, ho detto, entro domani, se loro non richiamano, parlerò con gli altri, almeno così facciamo tutti quanti solleciti. Perché la mattina si forma sempre ghiaccio, sempre così, non c'è un giorno adesso che non forma ghiaccio. I risultati sono qui, si vede, ho detto gli occhi, guarda, sembra che è nevicato, invece è tutto ghiaccio quella. Le persone che guidano quei bambini con quelle biciclette devono andare talmente piano o scendere i bambini dalla bicicletta a tenere in mano così possono passeggiare, ma così non si può fare. È la seconda perdita già su questa via, una l'hanno riparata e una è rimasta così. Quindi tutte le notti si ghiaccia, è pericoloso la mattina, probabilmente quando esci da questa vietta che è in discesa e speriamo che intervengano il prima possibile. È una situazione di pericolo perché con le gelate notturne si forma del ghiaccio, come si può ben vedere lì. Abbiamo già chiesto varie volte l'intervento della CEA ma finora nessuno si è presentato. Nonostante siamo a metà mattinata di una giornata molto assolata, il ghiaccio sull'asfalto, come vedete, è ancora tanto. Da Centrogiano per Canale 10 Paolo Leone.